Buonasera, benvenuti a questo secondo incontro di presenza nella presentazione dei libri. Abbiamo avuto Paolo Di Paolo, oggi abbiamo il piacere e l'onore di dialogare con Giordano Gasparini che ha scritto questo secondo voluminoso libro dal titolo Renzo Bonazzi, la cultura Reggio Emilia dal 1942 al 1976, un incontro organizzato dalla LUC, io faccio parte del direttivo, ringrazio Susi, tutti i colleghi, Susi Davoli, tutti i colleghi che mi hanno sostenuto in questo incarico. Comunque, questo incontro è organizzato con Istoreco e sarà condotto, oltre che ovviamente dall'autore da Giordano Gasparini, da Vannico De Luppi e da Mirko Carrettieri appunto come rappresentante dell'Istoreco. Due parole sui relatori. Giordano Gasparini che è stato direttore del settore Cultura e Università del Comune di Bologna dal 1998 al 2001, direttore di Programmazione Culturale per Bologna 2000, Città Europea della Cultura, dal 2001 al 2004 è stato direttore della Biblioteca della Sala Borsa di Bologna, dal 2005 al 2009 è stato direttore dell'area della pianificazione strategica del Comune di Reggio e dal 2010 direttore dell'area servizi alla persona del Comune di Reggio Emilia in periodo in cui la Biblioteca ha preso un ulteriore slancio attraverso importantissime acquisizioni come l'archivio Zavattini, il fondo dei manoscritti di Silvio Darzo, la biblioteca e i manoscritti di Gianni Celati, l'archivio dei negativi di Luigi Ghiri per ricordare ovviamente gli archivi più importanti, ma Giordano avrà modo appunto quando si parlerà appunto, secondo me, delle domande che io gli farò sulla politica culturale delle nostre istituzioni a Reggio, come eredità appunto di Renzo Bonazzi, ci racconterà quant'altro. Però vorrei ricordare qui anche un'importantissima riqualificazione degli spazi di Palazzo di San Giorgio con l'apertura della loggia Ferraroni che ha restituito notevoli spazi agli utenti, quindi le funzionalità di una delle nostre più importanti, più prestigiosi istituzioni culturali, che non ha soltanto il compito appunto di conservare, ma anche di valorizzare, quindi di fare cultura, di fare, di creare una cornice culturale per la nostra città. Ricordo inoltre che, sempre per lo stesso editore, Giordano Gasparini ha scritto questo libro molto interessante perché sembra una storia della musica del jazz, ma in realtà è anche uno spaccato culturale e sociale della nostra città dal titolo Reggio Emilia-Gez 1925-1991 dalla provincia al mondo. Mi piace ricordarlo perché come impostazione metodologica, oltre che storiografica, è questo dato locale che si proietta in un ambito più generale, nazionale e qua potremmo dire anche internazionale. Sono tutti questa impostazione metodologica che ci ha accompagnato in lunghi anni di lavoro. Con noi è Vannico De Luppi, che è professore ordinario di sociologia dei media presso l'Università ULM di Milano, dove è stato direttore del Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media e coordinatore del dottorato di Communication, Markers and Society. Ha insegnato anche all'Università di Urbino, Palermo, Modena e Reggio Emilia, ha pubblicato più di 70 volumi, non li elenco tutti, ne elenco soltanto due perché ci interessano per quanto riguarda la nostra attività professionale, come La vita di Luigi Ghirri, Fotografia, Arte, Letteratura e Musica del 2020, Umberto Eco e Media, e ha scritto e verrà pubblicato fra poco e sarà nostro ospite della LUC, questo libro, in cui personalmente sono molto curiosa di leggere, Creativi d'Emilia Carocci 2022. Mirko Carrettieri, invece, come abbiamo detto, rappresentante di Istoreco, è uno storico ricercatore presso l'Università di Bologna, ha svolto didatti coordinari e integrativi presso l'Università di Bologna e Modena, collabora con diverse riviste specializzate di storia, autore di numerosi saggi, ne cito alcune perché hanno coinvolto la nostra città come piccola patria, grande guerra, la prima guerra mondiale a Reggio Emilia, che è stato edito da Club Editore nel 2008, insieme a un altro collega, Alberto Ferraboschi, e poi ha scritto anche sull'Africa, Reggio Emilia in South Africa, Story of Friendship. E questo è interessante perché la LUC, in aprile, se non sbaglio sulle date, dobbiamo forse ancora concordarle, presenteremo tre seminari, appunto sul tema Europa-Africa, e quindi dove Reggio Emilia ha avuto un ruolo centrale. Quindi vedete anche la scelta di chi dialogherà con Giordano Gasparini, è stata una scelta oculata proprio perché diano oggetto uno sviluppo anche per discussioni future, cose che a noi alla LUC interessa appunto intrecciare questi interessi e proiettarli anche in un interesse generale. Io avrei tante domande, perché ho letto molto accuratamente il libro di Giordano, avrei tante domande appunto da fare a Giordano, però mi sembra corretto prima passare la parola a chi è seduto a questo tavolo, ricordandovi che secondo me in platea ci sono diverse, numerose domande, non legate soltanto a curiosità, ma proprio a un'impostazione alla storia di Renzo Bonazzi e al suo lascito. Quindi vi auguro buon lavoro e grazie di essere qui alla LUC. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie all'autore per questo volume. Volevo innanzitutto presentarvi un po' i contenuti del volume stesso, rimandandovi alla lettura, che è sempre la cosa migliore. Credo però che questo libro sia innanzitutto una cronaca molto dettagliata e partecipata anche degli eventi e della vita culturale della nostra città, e non solo, tra il 42 e il 76. Questa è, diciamo, la cornice. E quindi è un'opera che ci offre tantissimi spunti di riferimento, ho imparato molte curiosità, ho imparato moltissimo leggendo questo libro, e credo che davvero sia anche per tutti gli operatori culturali, intesi in senso lato, del nostro territorio, un prezioso regesto. All'interno di questa cornice, il libro ci offre anche una rappresentazione, non solo dell'azione di Renzo Bonazzi, su cui tornerò dopo, ma diciamo di almeno due generazioni di intellettuali, reggiani e a reggio. Quella nata appunto come Bonazzi negli anni 20, che è protagonista fin dall'inizio, e quella successiva. Io credo molto nella dinamica generazionale nella storia intellettuale, quindi mi sembra molto importante questo approccio generazionale, che ci fa comprendere molte cose, perché oltre ad entrare nelle singole dinamiche artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, di questa città, ci racconta di retti di relazioni personali, appunto questa relazione orizzontale, di Bonazzi con Cavicchioni, dei Valli e tanti altri, che non è solo una rete tra, appunto, artisti intellettuali, ma è anche una rete che coinvolge manager e tecnici in senso alto e ci mostra che queste reti si allargano a livello nazionale e in questo caso anche internazionale. E ci mostra anche come nasce, ma qui insomma sicuramente Vanni può parlare meglio di me, una industria culturale che ha dei luoghi di produzione, di fusione, che quindi non è fatta solo di persone e di eventi, ma è fatta anche di strutture e di processi, e qui emerge quindi la vicenda di medio-lungo periodo di una biblioteca, di un complesso museale, di un teatro, eccetera. Gli ambienti, i luoghi della cultura, quelli che non ci sono più e che per magari per molti reggiani non sono noti, così come invece quelli che hanno consolidato la loro presenza in una evoluzione significativa. Dicevo, reti nazionali e internazionali, perché sicuramente nel libro emerge anche la forte presenza, costante, assidua, presenza reggiana, i personaggi di livello nazionale, da Fo a Pasolini e internazionale. Pensiamo a Raffaele Alberti per dirne uno. Poi però il libro ci offre anche tutta una serie di spunti su alcuni nodi di questo trentennio, che sono a mio parere particolarmente interessanti, che vengono approfonditi, diciamo, nel volume e ci offrono delle domande, non solo delle risposte, anche molte domande, come dirò dopo. Il primo è quello proprio del 1942. Gasparini inizia seguendo quelli che erano poi i ricordi di Renzo, che spesso si è soffermato su questo passaggio, sulla breve ma intensa esperienza della rivista Temperamento, che è, diciamo, è abbastanza peculiare, perché si inserisce in quel fermento culturale che sta dentro l'ultimo fascismo, in cui i giovani, una parte dei giovani colti, diciamo, attraverso la cultura, appunto, elaborano delle forme di uscita dal regime, che poi metteranno in pratica finita la guerra. C'è poi il nodo molto noto del 1951 del dialogo con Guareschi e al teatro, che non solo ci introduce alla passione di Bonazio per il cinema, ma, e alla passione di questa città per il cinema, direi, ma anche ci spiega un po' il valore simbolico e insieme le deformazioni simboliche che il mondo piccolo di Guareschi ha gettato sulla rappresentazione del nostro contesto. Poi c'è la fase del 1956, soprattutto la vicenda del circolo di cultura, della sua chiusura, prima della sua attività, molto peculiare per quell'epoca, e poi della sua chiusura e poi dell'ascito che questo comunica. E poi ancora l'inizio degli anni 60, che è solo il momento in cui c'è il passaggio generazionale all'interno dei vertici politici, amministrativi e culturali della nostra città. Bonaffi è un protagonista quando diventa sindaco, proprio nella fase anche di boom economico della nostra città. E qui forse la storia più simpatica che Giordano riprende da Antonio Canovi è quella appunto della fondazione della COP1. aperta il giorno in cui viene mandato sullo spazio il primo cosmonauta russo. E poi c'è il nodo della fine anni 60, che è particolarmente importante, e è importante generazionalmente, ovviamente. Infatti ci sono molti spunti di notevole rilievo. Qui si parla a lungo del film sui fratelli Cervi, dell'occupazione del Cinemateatro di Fabrico, si parla di Zavattini, si parla del rinnovamento al San Lazzaro, si parla dei contrasti tra Bonazzi e il prefetto. Questo è sicuramente uno dei nodi più approfonditi. infine, diciamo, la metà degli anni 70 è l'omicidio campanile e mi sono molto piaciute le pagine sul circolo Jackson che non conoscevo e è stata una scoperta. Ecco, che cosa ne esce fondamentalmente? Quali sono i punti che poi nella conclusione Gasparini riprende riguardo a Bonazzi e la cultura reggiana, questo binomio che è al centro del volume? Innanzitutto, o meglio dire quasi, Bonazzi come esempio, leader e emblema di alcune caratteristiche della cultura reggiana. Sicuramente l'idea della cultura come partecipazione, della cultura come un agente della vita sociale e politica, non come un contorno o un residuo o qualcosa che sta da un'altra parte. E questo credo sia anche un messaggio importante per chi come Gasparini ha praticato sia da decisore che da dirigente il contesto delle politiche culturali della nostra città. E anche una sfida che rimane sempre aperta anche nei nuovi contesti che si sono ovviamente succeduti visto che il libro si ferma a 50 anni fa quasi. Un secondo punto che credo sia anche questo molto importante è che non è detto che la provincia debba essere provinciale e diciamo l'azione di Bonazzi è stata proprio quella di aprire Reggio Emilia una città che aveva appena superato i 100.000 abitanti che sicuramente prima del suo arrivo stava nell'ultima parte delle statistiche per reddito pro capite e che sicuramente non aveva una tradizione storica da capitale da nessun punto di vista in un luogo di elaborazione di fusione culturale significativo appunto al centro di varie reti e dinamiche nazionali e aperto anche molto alla prospettiva internazionale si pensi alla grande attenzione del sindaco Bonazzi per i gemellaggi alla sua partecipazione a diverse delle reti internazionali stabilite dal partito si ricordava prima la questione dell'Africa australe ma dovremmo parlare anche del Vietnam o del Cile e anche apertura appunto a artisti intellettuali di altri paesi in alcuni casi anche come accoglienza come per esempio nel caso del Living Theater che dimostrano appunto che è possibile anche dalla provincia fare qualcosa di non provinciale e infine direi il rapporto tra appartenenza e dialogo quindi una delle capacità indubbie di Bonazzi è stata e anche credo di questa città è stato il fatto di avere una forte identità una propria un proprio convinto radicamento non sempre facile non sempre quieto ma appunto di essere stata capace di dialogare anche con realtà identità sensibilità differenti e dialogare significa ascoltare significa confrontarsi e significa talvolta anche confliggere ma appunto in una prospettiva di confronto e di miglioramento reciproco ecco quindi questi sono i motivi secondo me per ringraziare Gasparini e per leggere con attenzione questo libro io a mia volta faccio i complimenti a Gasparini per questo lavoro minuzioso di raccolta di informazioni e di organizzazione di tutti questi eventi importanti di un periodo significativo della storia della città di Reggio e l'ho anche già espresso diciamo anche questi complimenti in altre occasioni ma qui vorrei riflettere ulteriormente sul senso di questa operazione che apparentemente può sembrare un'operazione diciamo un po' nostalgica ma Carattieri ha cominciato a tentare di farci capire che non è puramente un'operazione nostalgica è un'operazione che parte dal passato per cercare di dare degli stimoli di riflessione sul presente su che cosa vuol dire amministrare che cosa vuol dire soprattutto cercare di sviluppare una politica culturale in una città in una delle tante città italiane che non hanno la dimensione della metropoli e quindi le risorse le possibilità di una metropoli ma sappiamo che la realtà italiana è fatta di città di dimensioni contenute che chiamiamo la provincia ma che comunque non è mai la provincia secondo lo stereotipo sonnacchiosa ma è vitale vivace produce delle energie che devono però da parte di chi governa essere in qualche modo anche aiutate organizzate stimolate e sappiamo che appunto non sempre questo avviene però questo è un nodo centrale a mio avviso appunto che il libro ci pone come elemento di riflessione cioè il rapporto tra l'istituzione quindi l'organizzazione stabile che ha delle risorse sicuramente che ha delle strutture che ha delle possibilità e dall'altro quella che si chiama anche la società civile ma società che si esprime in dinamiche in movimenti in organizzazioni in naturalmente in organizzazioni leggere possiamo dire non come quelle istituzionali però c'è una dialettica quando la società funziona e viva e vitale c'è una dialettica tra questi due elementi e già negli anni 60 uno dei miei maestri che è stato Francesco Alberoni ha definito proprio questa teoria secondo lui del rapporto basato sul rapporto tra l'istituzione e il movimento movimento che produce energia che viene dal basso dalla società e che in qualche modo si incontra con l'istituzione e molto spesso diventa a sua volta istituzione si organizza si struttura e spesso perde anche quell'energia che aveva inizialmente però perché diventa appunto istituzione ma più in generale c'è una dialettica tra questi due poli ecco appunto quando la società è sana quando c'è una dialettica viva tra questi due poli allora diciamo si producono delle forme culturali delle attività ed è importante che in una società ci sia questa dialettica e questa dialettica a mio avviso in quegli anni in quel periodo era molto chiara molto evidente soprattutto evidente nella testa di Renzo Bonatti credo l'idea che chi governava doveva in qualche modo appunto amministrare organizzare una macchina che era istituzionale ma tenendo presente che dall'altra parte c'era una società che esprimeva delle esigenze esprimeva delle necessità e portava anche diciamo nella situazione in atto delle appunto delle istanze che come al conto dovevano essere assecondate sviluppate coordinate aiutate quindi anche una funzione proprio di aiuto a far emergere le situazioni quindi la creazione anche appunto di strutture stabili come possono essere gli asili o i teatri che sono stati ricordati eccetera eccetera ecco quindi è interessante secondo me credo andare a vedere quello che è successo in quegli anni proprio perché c'era una sorta di equilibrio armonico tra questi elementi da un lato l'istituzione dall'altra il movimento la società l'energia sociale che si manifestava ecco purtroppo noi sappiamo che tutto questo oggi non è più con quelle modalità non si presenta più con quelle modalità appunto dell'epoca di Bonatti e per varie ragioni complesse credo da analizzare ma insomma comunque è abbastanza evidente a tutti non è solo una questione di risorse economiche che non ci sono ma sicuramente è una questione di cambiamento culturale cambiamento proprio della società nella sua totalità e questo ha prodotto sicuramente appunto una una crisi possiamo dire dell'istituzione una crisi dello Stato ma anche dello Stato nelle sue articolazioni locali e e ha prodotto una situazione che è quella che appunto definiamo la postmodernità o il neoliberismo insomma con varie etichette definiamo la situazione di questi anni insomma in cui la cultura è diventata fondamentalmente una questione di mercato di marketing diciamo in qualche modo qualcosa che viene consumato sul mercato e che non corrisponde a quell'idea alta che aveva Bonatti di cultura come stimolo alla crescita della società come stimolo alla crescita appunto delle persone dell'individualità ma più in generale del stimolo alla crescita appunto della società nel suo complesso della vita democratica della qualità quindi della vita democratica ecco diciamo una cosa che è importante che vorrei aggiungere rispetto a questo discorso è anche il fatto che veniva in qualche modo ripreso di passaggio nell'intervento precedente e che è appunto il ruolo anche della sinistra cioè del partito comunista soprattutto appunto naturalmente in quegli anni e quindi il fatto che ci fosse all'epoca e mi sembra un aspetto importante da sottolineare ci fosse all'epoca un'idea della cultura che non è quella che lo stereotipo tradizionale in qualche modo ci rimanda cioè quella di una cultura comunista che in qualche modo schiacciava le spinte verso la diversità le spinte verso l'innovazione ma che quindi era c'era un'idea diciamo in qualche modo monolitica della cultura tutt'altro l'esperienza appunto andando a rileggere l'esperienza di Bonatti noi troviamo tutta una serie di appunto di forme di apertura che non sono solo forme di apertura verso altri popoli o verso appunto movimenti politici del pianeta ma e che ci sono e che sono importanti ma sono forme di apertura verso linguaggi nuovi verso linguaggi innovativi e quindi credo che quest'idea appunto è stato citato il famoso dibattito appunto a cui Bonatti ha partecipato come protagonista in cui si è discusso il film che veniva realizzato in quegli anni appunto su Don Camille Peppone che poi è stata una serie di film di successo popolare ma che hanno contribuito ad assecondare quest'ideologia della appunto della sinistra in qualche modo che che porta avanti un'idea monolitica un'idea un'idea impoverita della cultura tutt'altro l'esperienza appunto di Bonatti ci dice che tutt'altro e appunto quel periodo dal punto di vista del rapporto con la cultura e allora è importante ancora una volta ripensare a quello che è successo in quegli anni in quel periodo proprio perché in qualche misura ci dice che c'era forse un periodo felice dal punto di vista del rapporto con appunto con la società e con la cultura delle istituzioni dell'attività che le istituzioni sviluppavano ma anche allo stesso tempo credo che questo ci porti a riflettere su quello che possiamo fare io non credo che se la società come dicevo è cambiata se sicuramente il contesto si è modificato questo non vuol dire che a mio avviso non si possa comunque cercare di ripensare un modello come quello che è stato applicato in quegli anni in un contesto diverso in una situazione diversa ma appunto cercando ugualmente di ricostruire recuperare quell'equilibrio tra istituzioni da un lato e quindi struttura stabile struttura che ha delle risorse delle istituzioni dell'organizzazione e dall'altro appunto la spinta che viene dalla società l'energia che viene dalla società dei movimenti sociali dei movimenti culturali ecco quindi questa la pongo anche come domanda a Gasparini a questo punto se secondo lui un modello come quello di Bonazzi attualizzato all'epoca contemporanea può avere ancora un senso resta anche la luce della tua grande esperienza nel campo culturale buonasera a tutti grazie dell'invito grazie a Susi Davoli e a Laura Gasparini agli amici Mirko e Vanni che Vanni ha anche scritto l'introduzione molto bella questo libro ecco seguendo un po' il filo dei loro discorsi sì anch'io vorrei cominciare un po' adentrarmi nelle cose che ho raccolto che ho raccolto in questo libro perché insomma c'è effettivamente guardando un po' la storia 42-76 si possono identificare insomma nella storia di Bonazzi tre periodi uno è naturalmente quello dell'inizio lui inizia proprio con un gruppo di giovani intellettuali i reggiani sono dei nomi con lui c'era Romolo Valli c'era Loris Malaguzzi c'era Eugenio Salvarani insomma c'era un gruppo di intellettuali giovani importanti c'era anche Silvio Darzi in quegli anni che però ha sempre fatto una vita diciamo un pochino più appartata rispetto a questo gruppo invece che si trovava discuteva produceva dei giornalini così come si poteva fare allora e infatti il giornalismo poi fu il primo lavoro di Renzo Bonazzi subito dopo la guerra lui scrisse sulla Reggio Democratica che è la prima rivista la prima quotidiana del dopo guerra e perché in questo periodo tutto il tema dell'informazione ha un'importanza enorme prima c'era un giornale il solco fascista dopo la guerra c'era un'esplosione di riviste di ogni tipo da riviste sportive a riviste per giorni a riviste progressiste a riviste conservatrice quindi tutto il tema dell'informazione era veramente stato un momento importantissimo per il docu guerra perché corrispondeva naturalmente alla libertà ritrovata e Renzo Bonazzi subito inizia proprio a scrivere sui quotidiani locali anche regionali e scrive naturalmente in particolare di cinema che è stata la sua prima grande passione qui ci sono quattro ore che vi dico cioè loro lui voleva aprire era il periodo dei cineclub cioè il cinema diventava era per tutti pensato uno strumento non solo di intrattenimento di piacere dell'idea di ritrovarsi dopo il disastro della guerra ma proprio uno strumento di formazione insomma ecco tanto per intenderci che aiutasse a capire meglio insomma la nuova fase che il mondo stava affrontando e Renzo Manzi dice in un'intervista a Parma esiste un'esperienza di circolo del cinema promossa da Cesare Zavattini Pietro Bianchi e Attilio Bertolucci e insieme a Romolo Valli andammo nell'autunno del 45 in bicicletta a Parma per incontrarli conoscere la loro esperienza per dare vita anche a Reggio a un circo del cinema che effettivamente poi nacque ecco l'altra cosa di questo periodo che anche per me è stata per certi versi ovviamente quando fai ricerca il primo che ha delle sorprese delle conoscenze è quello che la fa e in un periodo di dopoguerra dove c'erano dei problemi per la cittadinanza enormi ci sono venuti dei mesi per avere la luce in tutta la città non c'erano servizi igienici metà della città era distrutta c'era il problema della casa dove fare stare alla gente ecco quindi problemi veramente come dire strutturali sostanziali ecco però c'è parallelamente un'esplosione di attività culturali enorme enorme riaprono tutte le istituzioni culturali Reggio nonostante tutto è tra le prime città italiane a riaprire i musei a rifar funzionare la biblioteca a rimettere in moto le attività di carattere musicale nel foie del teatro che loro era gestito da una società privata quindi c'è poi la bellissima la bellissima esperienza della casa della cultura che qualcuno ha già richiamato un'esperienza straordinaria che portò a Reggio i più importanti intellettuali italiani di quell'anno un'esperienza io credo sia così voluta da Banfi da Antonio Banfi che fondò una casa della cultura con Elio Vittorini a Milano e in qualche modo cercò di realizzarla qui anche a Reggio e qui sono passati tutti i più importanti intellettuali italiani adesso un po' non voglio quindi davvero un momento un momento molto molto importante ricominciano le attività artistiche e con le attività artistiche inizia anche il dibattito sull'arte dobbiamo proporre solo modelli antichi di personaggi di primo piano perché qui sono le mostri di Antonio Fontanesi di Degli Orsi tanto per intenderci dobbiamo fare solo il realismo Guttuso e compagnia bella perché dobbiamo far vedere come realmente sostanno le cose nel nostro paese far capire alle persone anche attraverso l'arte come è il nostro paese insomma come bisogna aiutare a far crescere il nostro paese e poi le prime avanguardie che invece che rifiutavano questi linguaggi quindi c'è davvero un dibattito e parlo degli anni 40 ai primi 50 quindi questa è la prima parte e Bonazzi in questa vicenda era dentro fino al collo cioè parteceva direttamente gli dava da fare e l'altro secondo punto che è stato già richiamato però lo vorrei ancora richiamare è questo famoso 51 il famoso dibattito Guareschi Bonazzi perché lì è la prima volta insomma che ebbe notorietà tanto per capire che prima era un giovane che si occupava di cultura dopo questo momento diventa davvero una figura conosciuta infatti poi entra in consiglio comunale come consigliere comincia il suo percorso come assessore poi diventa la sindaco nel 62 e qui voglio leggere un'altra cosa insomma che già un po' riassume tanti aspetti di Bonazzi qui a Bonazzi aveva poco più di 20 anni aveva 24 25 anni e la storia la conoscete il primo film di Don Camille Peppone il partito comunista allora cerca addirittura di non far realizzare il film perché dava un'immagine troppo macchiettistica caricaturale dei comunisti tanto per intenderci e qui c'è una bella testimonianza di Dino Felisetti che io ho raccolto dove dice il primo ricordo di Bonazzi il primo ricordo di Bonazzi che allora non conoscevo personalmente fu quando lui affrontò in un pubblico dibattito Giovannino Guareschi Giovannino Guareschi era già un autore affermato un grande verve grande no grande loqui insomma una figura e glielo affrontò al municipale e io ebbi l'impressione di un ragazzino che affrontava un gigante tuttavia notai che aveva un gran coraggio perché teneva testa senza timore a Guareschi che evidentemente era un esperto di quel tipo di dibattiti quando finì il confronto me ne andai via fra me e me dicendo avuto un bel coraggio perché giovane come era ne era uscito bene per farmi capire dirò che allora per farmi capire bene dirò che un altro tipo di dirigente comunista specie all'epoca avrebbe detto la parola d'ordine è che quel convegno di Guareschi non ci va nessuno chiudiamo nelle porte in faccia e rifiutiamo il contatto con un tipo come lui invece il comunista Bonazzi che era aperto al dialogo andò a quel confronto perché avendo idee proprie si sentiva di andarle a sostenere per confrontarle con le idee dell'altro quindi qui dà già l'idea di un ragazzo di poco più di 20 anni che approccio aveva alla politica alla cultura alla relazione con gli altri a volte c'è un'altra cosa carina invece che disse Guareschi in quel lui era anche molto spiritoso in quel dibattito dove dice io non so perché ce l'abbiano tanto con me sono riuscito a fare qualcosa che nessuno al mondo è mai riuscito a fare sono riuscito a rendere simpatico un comunista cioè quindi una figura e questo fu il momento in cui come dire Bonazzi viene conosciuto questo dibattito 2.000 persone dentro il municipale oggi ce ne starebbero alla metà megafoni fuori con gente con la piazza piena parliamo di migliaia e migliaia di persone attorno a questa vicenda quindi e lì cominciò ad essere conosciuto l'altro momento è quando diventa sindaco ecco nel 62 e lì come dire è quello che deve affrontare poi qui facciamo un altro giro magari di tavolo qui come dire si pone il problema c'è una città che pian piano comincia a uscire dal disastro della guerra ecco Bonazzi con anche tutta la sua come dire già predisposizione politica e culturale inizia a guidare la città verso la fase verso la modernità in tutte le sue forme ecco poi dirò qualche cosa anche su questo tipo poi c'è questa storia che si dice che racconto che lui doveva diventare sindaco già nel 60 solo che nel 60 c'è stato i fatti del 7 luglio e in qualche modo naturalmente non si voleva che un avvicendamento di un sindaco avvenisse in quel periodo perché sembrava un avvicendamento dovuto ai fatti del 7 luglio quindi spostò avanti di due anni e nel 62 divenne sindaco difendere la città e qui inizia un'altra fase è pure quella più quella più anche affrontata nel libro nel libro che oggi di cui oggi stiamo parlando e che magari un secondo giro dico qualcosa di più grazie facciamo un altro giro facciamo intervenire Laura come procediamo come volete io volevo credo nello spirito anche con cui Giordano ha scritto il libro dire che cosa secondo me questo libro ci deve indurre a fare per proseguire queste indagini questo libro è una storia di Renzo Bonazzi e della politica culturale a Reggio e tuttavia diciamo su entrambi queste questioni ci invita a nuove indagini per quanto riguarda infatti la figura di Bonazzi come già adesso avete sentito questo libro si occupa del periodo 42-76 chiaramente per ricostruire la biografia di Renzo è necessario parlare anche del prima e del dopo ovviamente e questo è un primo punto sicuramente è necessario approfondire alcuni altri elementi della sua vicenda personale per esempio quello professionale che viene accennato nel volume ma chiaramente in questo ambito è secondario e in terzo luogo credo vada fortemente approfondito la sua azione politica che non è solo appunto azione amministrativa per quanto questa è quella che prevale e per fare queste cose i prossimi passi credo debbano essere intanto una e qui chiedo a Giordano qual è la situazione una mappatura e valorizzazione del suo archivio personale che vedo che nel libro sono utilizzate le carte del comune ma ricordo anche che c'era questa questione delle carte personali di Bonazzi che sarebbe importante appunto utilizzare in secondo luogo credo inserire questa figura così centrale dentro alle ricerche che anche l'istituto storico sta realizzando in corrispondenza del centenario sulla storia del partito comunista reggiano perché appunto Bonazzi va studiato insieme con suo contesto politico oltre che il suo contesto intellettuale e credo che sarebbe molto utile anche confrontare Bonazzi sempre in quell'ottica generazionale a cui facevo riferimento prima con alcuni altri amministratori anch'essi di non poca sensibilità intellettuale ma con storie diverse ma che hanno caratterizzato la stessa stagione per esempio a Modena e a Bologna come Rube Striva e chiaramente Guido Fanti credo che ne potrebbero venire delle indicazioni significative per quanto riguarda la storia della cultura certamente qui abbiamo tantissime informazioni su quella che è stata la cultura reggiana in questo periodo nei termini anche molto precisi che si diceva c'è però anche qui lo sviluppo della ricerca in che direzione può andare innanzitutto credo soprattutto nel tentativo di uscire dall'idea di una storia degli intellettuali ecco della cultura come storia degli intellettuali intanto perché anche per le competenze sia per le esperienze di Bonazzi che per le competenze di Giordano ovviamente c'è una particolare attenzione per gli intellettuali umanisti artisti eccetera ma chiaramente c'è tutta una cultura soprattutto quella delle scienze sociali delle scienze applicate che nella nostra città ha avuto sviluppi insignificativi che qui è toccata ma che chiaramente può essere può essere approfondita sicuramente il rapporto con la scuola e la formazione visto che qui siamo in università c'è tra cultura e formazione chiaramente un rapporto e ci deve essere e soprattutto il rapporto con le politiche culturali perché appunto intendendo la cultura come una parte integrante della politica credo che si debba approfondire approfondire questo elemento e in quest'ottica credo che quello che sia importante è studiare mappare e studiare chi sono gli attori della cultura nel contesto reggiano non solo quello pubblico non solo gli intellettuali ma con un'ottica un po' più larga vedere come si diffonde e come viene ricevuta anche la cultura cioè qual è l'impatto di tutti questi eventi culturali che abbiamo segnalati effettivamente sulla società reggiana e più in generale appunto per usare delle etichette ma insomma per capirci passare dalla storia degli intellettuali appunto alla storia della cultura della mentalità dell'immaginario in cui sicuramente questi intellettuali hanno un ruolo ma non contano solamente loro e infine sono molto contento che adesso Giordano abbia bozzato questa scansione questa tripartizione nella vicenda specifica di Bonazzi perché diciamo credo che sia necessario a partire da questi dati che lui ha raccolto costruire un percorso di articolazione interpretativa che evidenzi le discontinuità le conflittualità le crisi anche per capire appunto perché questo modello virtuoso come si diceva prima quando e perché quindi ecco ringrazio Giordano anche per il fatto che appunto credo che da questo libro possano derivare queste linee di ricerca significative allora aggiungo qualcosa ma con l'intenzione di riprendere il discorso che che ho fatto precedentemente perché appunto credo che la questione centrale sia questa che cercavo di illustrare cioè cosa possiamo recuperare di questa esperienza di Bonatti di questo modello che Bonatti ha sviluppato e appunto magari possiamo pensare che sia appunto stato quello un periodo felice un periodo in cui c'erano possibilità che oggi non ci sono più quindi diciamo uno sguardo nostalgico ma come ci diceva Gasparini poco fa erano anni difficili quelli anni con grandi difficoltà in cui appunto ci si rimboccava le maniche e si cercava di risolvere i problemi allora vorrei leggere anche io un passo che mi ha colpito dal libro un intervento di Bonatti in cui lui appunto è consapevole delle difficoltà però anche del fatto che Bonatti dice appunto bisogna in qualche modo affrontare questa difficoltà bisogna andare avanti bisogna guidare diciamo la situazione allora dice Bonatti quando i mutamenti della realtà raggiungono un certo grado si richiede a chi ha compiti direzione politica e sociale la capacità di individuarli e dare una soluzione originale ai problemi che si pongono ciò richiede studio attento e scevolo di prevenzioni iniziativa coraggiosa libera da pregiudizi capacità di esprimere idee progetti iniziative che sappiano parlare nello stesso tempo all'intelligenza alla fantasia al sentimento di ogni uomo che riconosca il proprio avvenire legato a quello dei suoi simili e quindi diciamo un discorso programmatico insomma in qualche modo che fa ma che parte dalla consapevolezza che le difficoltà ci sono e che quindi appunto vanno affrontate avendo chiaro un progetto in mente ed è esattamente appunto quello che in qualche modo Bonatti ha cercato di fare tra le tante cose forse non abbiamo citato mi sembra un'esperienza credo straordinaria per lo meno per chi interessa di musica si occupa di musica che è stata musica realtà che è stata un'esperienza assolutamente innovativa credo non solo a livello nazionale ma anche internazionale in cui si è ribaltato diciamo quello che era il rapporto tra musica colta e musica popolare insomma da lì è nato anche tutto un filone diciamo di studi che hanno recuperato quello poi chiamato dagli anglosassini la popular music insomma in cui l'idea di popular è molto diversa dalla nostra ma che comunque ha appunto contribuito a ripensare anche al ruolo della musica nella società e da musica in realtà è nata questa spinta molto forte naturalmente coinvolgendo intellettuali musicologi importanti musicisti di livello nazionale che sono venuti a reggio e che si sono appunto impegnati in questo progetto di Bonazzi che nel discorso appunto che leggevo era molto chiaro appunto questa idea appunto che aveva di appunto di studiare le situazioni e cercare di trovare delle soluzioni quindi anche era sicuramente un intellettuale Bonazzi ma era un intellettuale anche pragmatica questa è anche una cosa forse qui posso fare anche una domanda ulteriore a Gasparini per chiedere conferma però la mia idea è questa qua cioè appunto che ci fosse una visione intellettuale anche teorica astratta speculativa ma anche un grande pragmatismo insomma sostanzialmente no? e credo che sia una dote rara questa di trovare appunto in una persona la capacità di mescolare queste due prospettive ecco però però c'era sicuramente proprio perché i risultati che appunto che nel tuo libro ci racconti molto bene sono appunto frutto di questa capacità di mescolare una visione un'innovazione e con la capacità poi di realizzare questa visione di portarla avanti di risultati insomma ecco quindi ti volevo chiedere conferma di questa mia impressione insomma certo sì certamente cioè infatti lo dimostrano insomma sono stati anni in quelli veramente che hanno cambiato la città hanno cambiato la cultura la testa l'architettura insomma hanno davvero hanno davvero guidato sembra una frase fatta ha guidato davvero la città reggio che era rimasto anche un po' indietro rispetto ad altre città negli anni dell'immediavo dopoguerra verso davvero un momento invece di importante di mutante sviluppo ecco proseguendo un attimo cosa dire sarebbe ottante ma sicuramente insomma la generazione di Bonassi è stata molto segnata da due fatti che ho già richiamato uno i licenziamenti delle regiane del 51 e l'altro i morti le vicende del 7 luglio quelli sono due fatti che sicuramente hanno segnato quella generazione che fra l'altro come diceva anche Mirko ci fu con Bonassi noi parliamo di Bonassi ma ci fu in generale un fortissimo cambio generazionale all'interno dell'organizzazione del partito comunista ma radicale arrivano anche figure come Bonassi che è figlio della borghesia reggiana avvocato altre figure che avevano formazioni diverse rispetto ai quadri immediati del dopoguerra ed era una città che stava comunque negli anni cinquanta già cambiando se ne conto che alcuni degli interventi l'hotel Astor l'isolato San Rocco il tribunale insomma tutta quella zona lì attorno al tutto storico negli anni cinquanta è stata totalmente ripensata riguardata con tutte le naturalmente le discussioni diversi punti di vista lui però riprende questo tema dell'architettura della città spostandola però non più su un'emergenza degli anni cinquanta c'era da dar lavoro alle persone c'era da rilanciare un po' l'economia della città ma anche qui qualificandola proprio con l'idea di dare una giusta collocazione alle istituzioni culturali della città adesso noi vediamo questi spazi realizzati in questi ultimi anni ma il tema Caserma Zucchi da Caserma a Spazio per l'attività culturale i chiostri di San Pietro da Spazio Militare inizia proprio in quegli anni c'è Bonazzi che fa iniziative pubbliche naturalmente con tutti i problemi che c'erano allora con il prefetto comunque nasce in quegli anni con questo spostamento non c'è solo un problema di emergenza diciamo così quindi di attuare degli interventi emergenziali ma cominciare anche il tema della requalificazione dei beni culturali perché questo lavoro sul Mauriziano c'è tutto un progetto proprio che possiamo chiamare anche in quei tempi come dire anche in qualche modo pionieristici progetto di riqualificazione del patrimonio storico e artistico della città un'altra cosa importante tra l'altro in quegli anni nasce e si insomma e poi ha un peso importante poi fino a giorni nostri la cooperativa architetti che nasce proprio nel medio dopo guerra e praticamente accompagna attraverso vari interventi tutta questa fase proprio di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano della città ecco altri due aspetti poi caratteristici adesso citare gli episodi diventa difficile anche sapete gli anni 60 il gruppo 63 con Umberto Eco l'iniziat tutte cose conosciute e va bene però anche lì a mio parere questo lo scrivo c'è in fondo proprio un'idea un'idea politica un'idea culturale quella che la città doveva accogliere tutte quelle forme diciamo così culturali artistiche che facevano fatica a trovare altri luoghi per poterci esprimere il gruppo 63 era nato l'anno prima ha fatto un convegno in un albergo di Palermo insomma nessuno gli voleva mano questi stiquati non si capiva cosa scrivessero insomma è lo stesso il Living Fiat cacciati dagli Stati Uniti la storia la conoscete un po' tutti quindi questa idea dell'accoglienza che poi lui in qualche modo ampliava anche altri settori naturalmente qui con polemica discussione in quel periodo ci fu un'ospitalità i Sinti che nessuno voleva Reggio ospitò molte famiglie di quella di quell'area diciamo chiamola culturale quindi proprio questa idea dell'accoglienza quella città doveva essere in grado di accogliere quelle iniziative artistiche che in altre parti non sarebbero sviluppate che erano quelle naturalmente più d'avanguardia tanto per capirci un altro tema che gli amici mi hanno hanno richiamato è il tema dei rapporti adesso anche qui ogni nome avrebbe bisogno di un però ci sono rapporti con Jean Paul Sater ci sono rapporti con Bertarrasse Raffaele Alberti insomma Gian Giacomo Fertinelli con i tempi ecco anche qui c'è un elemento importante io mi sono un po' letto tutto quello che ho trovato ed erano tutti Luigi IX insomma con cui ed erano tutti rapporti rapporti veri non erano lo scambio di auguri a Natale o la stretta di mano a un convegno erano rapporti veri c'erano dietro discussione progetti progetti comuni anche comunque sempre con questo sguardo internazionale allora erano i tempi del Vietnam del Cile insomma c'era questo aspetto tra l'altro ancora oggi d'attualità purtroppo e quindi questa idea appunto che tutte queste relazioni dovevano produrre progetti veri e anche qui come dire non era un problema solo di di orgoglio personale avere rapporti con Bertarrasse c'era l'idea che questa città poteva produrre delle iniziative delle mobilitazioni che in qualche modo potevano contribuire comunque a come dire al progetto più generale del paese per sviluppare la cultura per sviluppare la consapevolezza delle persone insomma quindi c'è sempre questa idea di fondo non solo reggio voglio essere come dire più bravo di Modena ma voglio contribuire con questi progetti a cambiare il paese allora poi si diceva così sostanzialmente e quelli sono altri due aspetti secondo me importanti un po' leggendo trasversalmente il percorso di il percorso di Renzo Bonazzi e quelli sono gli anni anche poi arriviamo velocemente verso la fine degli anni verso gli anni sessanta in cui prende come dire investe se le istituzioni culturali quelli sono gli anni in cui arrivano a reggio Ambrosette musei centiluce all'istituto musicale Peri Cervis viene chiamato per rifondare il tema della della salute mentale ecco quindi come dire e sono personaggi molti che venivano da fuori quindi c'è anche questa qua questa dimensione di guardare un po' al di fuori quello che è reggio probabilmente oltremmo di poi potremmo dire che anche per queste persone queste figure importanti era un luogo come dire interessante su cui andare a lavorare ecco perché e un altro un altro tema sempre due temi li accenno e poi purtroppo perché sono anche per me sono state un po' scoperte non solo il tema delle scuole dell'infanzia noi tendiamo sempre a non tendiamo la prima cosa che ci viene in mente è che c'è una rasoiata che divide in due le scuole comunali adesso un po' meno ma fino a qualche anno fa le scuole comunali pubbliche e le scuole comunali cattoliche invece leggendo gli atti si scopre che invece come sempre Bonazzi uomo di dialogo c'è stato invece un dialogo importante tra i due mondi perché perché per entrambi poteva essere un'opportunità perché come come scrive come anche detto Castagnetti in un'intervista perché per Malaguzzi il fatto che fosse riconosciuto come era diciamo il progetto didattico delle scuole dell'infanzia da parte dei cattolici era una conquista i cattolici non accettavano che non ci fosse l'insegnamento della religione tanto per intendersi e anche per i cattolici era importante come dire avvicinarsi al monosello didattico delle scuole dell'infanzia comunale perché perché in qualche modo poteva come dire fare un salto di qualità alle loro scuole che erano sostanzialmente scuole che avevano un profilo assistenziale ecco dove la didattica sostanzialmente non c'era ecco quindi c'è stato incontri quindi come dire anche qui le cose sono sempre un pochino più complesse e interessanti di quello che magari possono apparire l'ultima cosa tra le tante che mi ero segnato ma insomma è l'università no la nascita dell'università regio anche qui è una bella storia che dà l'idea anche come dire della forza dell'amministrazione pubblica di quegli anni perché sostanzialmente ci fu l'operazione dove il comune e la provincia erano insomma non stati coinvolti adeguatamente l'operazione della camera dei commerci e associazioni industriali di portare a legge la facoltà di economia e commercio praticamente è fatto rittori tutti quanti firma eccetera a questo punto il comune ferma tutto dice no noi questa qua non la vogliamo la mia discussione e non viene fatta si ricomincia un nuovo percorso e viene portata qui scienza della produzione animale ma non per una ripicca eh perché poi ma per un problema vero nel senso che loro dicevano economia e commercio è una facoltà che non è dentro i problemi i temi del nostro territorio l'organizzazione del nostro territorio la parte produttiva di nostro territorio oriamo una facoltà che sia più vicino a quello che noi in qualche modo produciamo facciamo e nasce scienza della produzione animale e anche qui c'è tutta una storia raccontata in due minuti ma è durata e alla fine il consiglio comunale e il consiglio provinciale e tutti quanti nasce la facoltà di scienza delle produzioni animali questo per poi per concludere poi magari sono delle domande beh insomma io dico sempre che quando credo che gli amici qui possono condividere quando si inizia una ricerca sostanzialmente insomma ci sono sempre due aspetti la prima devi prendere dei dati verificarli cercare di metterli insieme dargli un senso e renderli piacevoli alla lettura perché poi in una ricerca è importante condividerla se sta nel tuo cassetto l'altra però che inevitabilmente anche questa ricerca anche se parla di tempi passati più o meno passati inevitabilmente ti dà sempre comunque delle nuove dei nuovi stimoli a volte delle nuove indicazioni a volte anche totalmente inaspettati ed è questo insomma uno degli aspetti secondo me più interessanti più piacevoli per chi riesce a fare dedicare un po' di tempo a queste cose per quanto riguarda sì io non ho voluto fare ovviamente un libro un libro come dire commemorativo completamente biografico queste operazioni secondo me dovrebbero devono in qualche modo tenere aperto un dialogo ecco tenere aperto un dialogo con il con il nostro con la nostra storia e capire anche bene come chiedeva Vanni adesso su domande non facci da rispondere che realità ci possono lasciare oggi la prima che mi viene in mente anche tenendo conto dal periodo in cui veniamo è che questo tema questa cosa carissima molto cara a lui sul fatto che tutti dovevano procedere potevano accedere a tutte le diverse forme di cultura anche quelle più complesse a volte esagerando perché poi i cinegiornali di Zavattini che sono prodotti a Reggio di cui Marco è conoscitore nel dettaglio erano erano come dire presentati come cinema di tutti per tutti tutti potevano fare cinema anche se ci sono poi documenti di Bellocchio di Rulli ci sono grandi autori scuola ecco però l'idea era quello che tutti dovevano conoscere e potevano anche fare cinema quindi questa cosa l'accessibilità poter essere essere in grado attraverso un progetto politico culturale di fare accedere e di avvicinare alla cultura il maggior numero di persone possibile in questa fase dove invece purtroppo molti sono allontanati i nostri cinema i nostri teatri hanno ripreso fortunatamente ma sono lontani dai numeri precedenti quindi sicuramente questo è uno degli insegnamenti chiamiamoli colì se vogliamo chiamare così che ci può dare mi fermerei qui per adesso perché magari c'è un po' di tempo per le domande perché altrimenti mi mando a casa domattina grazie comunque Laura prendi tu il comando se c'è qualche domanda altrimenti ne ho una io a Giordano Gasparini come è nata l'idea di questo libro perché come hai detto tu non è certo diciamo così celebrativo anzi ha voluto andare alle fonti nei documenti nell'archivio personale di Bonazzi che è conservato nell'archivio storico ma non solo c'è stata una ricerca molto accurata quindi c'è stato diciamo così come come impostazione un desiderio di e come ci hai spiegato il desiderio di andare al di là di quello che è la vulgata storica ci raccontavano e quindi come il dibattito sulle scuole l'educazione cattolica il dialogo e quindi anche l'esigenza di riportare alla nostra memoria storica un personaggio che molti reggiani lo ricordano ovviamente credo anche con affetto ma ti chiedo appunto visto l'impegno profuso come è nata l'idea di questo libro io Lorenzo Bonazzi non sono giovanissimo non sono neanche non ho avuto l'opportunità di lavorare con Lorenzo l'ho conosciuto molto bene successivamente tutto è nato esattamente dieci anni fa guardavo per caso perché dieci anni fa ci fu un'iniziativa per ricordarlo promossa dal dal PD non so se fosse il PD alla sala degli specchi e lì mi chiesero di scrivere qualche pagina ho scritto una decina di cartelle no? così proprio dopo di che la solita storia è un imbuto cominci vai avanti e ti appassioni e poi questo libro lo dicevo prima con gli amici che è già un librone quindi scusatemi perché comunque l'ho fatto in modo come indice uno ne può leggere anche a pezzi quindi sì poteva essere un libro di mille pagine insomma nel senso che veramente le cose erano tante quindi è nata così poi insomma insomma io come sapete i temi della cultura mi hanno sempre appassionato e quindi anche per me poi capire meglio cosa stava cosa veniva cosa è venuto prima di me tanto per intenderci quando ho cominciato io un po' a occuparmi di queste cose insomma è stata una cosa importante infatti un po' lo spiego alla fine le ultime due paginette le motivazioni ho fatto anche una playlist non so se può interessare è una è una è una consigli di lettura che in qualche modo insomma sono diciamo nel contesto generale di quel periodo insomma ecco quindi c'è qualche domanda un'altra cosa interessante scudo che esce da lì è che siccome l'hanno Pasoliniano Pasolini insomma Correggio ha avuto alcuni rapporti importanti insomma quindi ha avuto diversi episodi come sapete ha fatto il liceo lì certo ha fatto un mese alla biblioteca in Palazzo a Giorgio mentre suo padre era in stanza a Scandiano per i fatti il 7 luglio viene chiamato dai giovani a fare un'iniziativa pochi giorni dopo e e poi c'è la famosa vicenda del Capito quando presentò Medea e fu ci fu una violenta contestazione di di gruppi neofascisti un po' da tutta qui racconto l'episodio dove lui deve uscire da una porta laterale eccetera eccetera quindi insomma anche Pasolini insomma ricordando i suoi cent'anni di fatto ci sono molte iniziative in programma molto interessanti e aveva aveva correggio anche per altre vicende minori aveva Luciano Serra che è un suo carissimo amico che è un reggiano doc sì che hanno studiato insieme a Bologna a Bologna qui sono sempre frequentati a Casarsa ha collaborato alle sue riviste insomma quindi insomma io sono convinto Zavattini ha scritto la prefazione del suo libro sul dialetto lui sapete che è importantissimo appassionato di dialetti essendo vissuto per lungo tempo a Casarsa in Friuli ha scritto una bellissima introduzione al libro di Zavattini perché era una parola che era raccolta di piccole poesie in dialetto luzzarese quindi insomma è un'ultima nota del centenario per ricordare Pasolini niente allora se non ci sono domande ringraziamo Giordano un minuto ancora anche dieci devo leggere una cosa che ho trovato un po' per caso però io inizio questo libro con un breve testo di Ezio Raimondi che è stata una figura importantissima centrale nella cultura del secolo scorso e voglio leggere queste dieci righe sue proprio sul tema della ricerca perché quando le ho lette insomma nel mondo della cultura anche se non lo sappiamo siamo sempre dei custodi custodiamo qualche cosa e mentre siamo dei custodi non dobbiamo chiudere i processi ma aprirli tenereli aperti al presente come una delle tante piccole luci che ci illuminano in questo che è il nostro quotidiano fatto di evidenze e insieme anche di segreti e qualche volta di misteri alla fine però resta questo paradosso la memoria non riporta soltanto indietro ma porta anche ciò che è indietro verso di noi e per questo vuole una cura vuole un rispetto vuole un metodo che alla fine è poi sempre etica ovvero qualcosa attraverso cui si decide di noi e della nostra responsabilità per secondo me sono dieci righe che come dire è inutile scrivere dieci volumi non so come dire grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti